Musica Chiediamo a Giovanni di spiegarci quali sono le caratteristiche salienti di questo modello organizzativo Agile. La Tribe alla fine non è altro che un gruppo di persone che si occupano di sviluppare una macro tipologia di soluzione. Un'applicazione mobile, un portale web, un sistema CRM, la parola chiave è scalabilità. Il concetto di Agile prevede che i team siano autoconsistenti, ognuno deve sapere che cosa deve fare. La Tribe è orientata alla soluzione, il chatter è una componente della soluzione. Il maggiore esperto di quel gruppo di persone che compongono il chatter rappresenta il chatter lì. L'azienda osserva con grande attenzione. Voi avete se non altro la responsabilità di fare da apripista. La Tribecomings